Allora sono qua in uno schizzo di SOLIDWORKS, ok, aperto, in 3D e vado ad accorciare, voglio usare il comando accorcia entità, dunque clicco qui, sono qua su il filo automatico, tengo premuto il tasto sinistro e vado ad accorciare, ok. Questo comando posso utilizzarlo anche certe volte per estendere, senza andare a cambiare comando, devo tenere però premuto il tasto MAIUS con SHIFT, ok, dunque io posso per esempio, tengo premuto il tasto, sempre rimango su il filo automatico, non cambio nulla, tengo premuto il tasto SHIFT, vado a cliccare qui, ok, clicco qui, Ok, e vedete che vado giù e si allunga, cioè si crea quella linea arancione, arrivo fino a qua, clicco col tasto sinistro, faccio ESC, questo in automatico dovrebbe, vedete, si è andato a creare anche la sua relazione di coincidenza, dunque si è esposto qui, questo qua si muove e rimane coincidente. Dunque posso usare anche nello stesso comando di accorciare l'entità, se ho fretta posso anche allungarle, ok, ci vediamo alla prossima, arrivederci.